Due passi verso il pieno ritorno alla normalità, all'ospedale Murri di Fermo. Da oggi la mensa dipendenti, che era stata chiusa dalle prime fasi della pandemia, è tornata operativa. L'afflusso sarà organizzato su tre turni, dalle 12.45 alle 13.15, dalle 13.30 alle 14.00 e dalle 14.15 alle 14.45. La stanza sarà pulita tra una sessione e l'altra. È stata prevista ventilazione continua dei locali, la permanenza sarà limitata al tempo necessario al consumo del pasto e sarà mantenuta alla distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro. Era un servizio che mancava per i dipendenti dell'ospedale. Siamo felici di poter riattivare dopo un lungo periodo la possibilità a tutti di accedere alla mensa. Abbiamo provveduto a scaglionare gli ingressi ed a prolungare il distanziamento, quindi stare attenti sul distanziamento che verrà poi svuoto all'interno della mensa tra gli operatori. È un segnale che le cose stanno ripartendo e quindi un augurio che la battaglia contro il Covid sia superata. Se la campagna vaccinale dovesse proseguire così come sta andando, io penso che sia un buon auspicio che riusciremo a vivere un periodo più tranquillo rispetto a quelli passati. Sono riprese regolarmente anche le funzioni religiose alla Cappella Ospedaliera, a cura del Cappellano del Murri, Don Sebastiano Serafini.